buongiorno buongiorno dal dottore claudio sarascino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dicesse vera e professionale con la v maiuscola unica al mondo oggi ti parlerò di un audio mp3 dicesse unico al mondo nel suo genere dal titolo migliore alla tua condotta migliore il tuo comportamento a scuola è rivolto soprattutto a bambini adolescenti che hanno una condotta a scuola veramente riprovevole e i genitori i maestri la maestra non sa più cosa fare anche la condotta il comportamento proviene dal subconscio del ragazzo della persona che si comporta male scarica di da qualsiasi parte del mondo in cui abiti in questo momento a o laud quest'audio mp3 dicesse del titolo migliora la tua condotta migliore il tuo comportamento segui le strutture molto facile la prova di un nonno la prova di un idiota la prova di un pigro e ti meraviglierai di come la tua vita cambierà dal negativo al positivo senza se senza ma così come la vita la condotta il comportamento il carattere di tuo figlio di tua figlia a scuola perché quest'audio mp3 dicesse funziona anche per chi non vuole chi non può essere aiutato seguendo le istruzioni molto facile ripeto ancora una volta la prova di un idiota la prova di un nonno alla prova di un piccolo ora i due scelte rimanere dove sei e portare tuo figlio tua figlia magari a peggiorare sempre di più la propria situazione a scuola e anche nella vita sociale magari sfociando in qualche strada non voluta né desiderata perché tante volte i comportamenti esuberanti portano anche a peggiorare la vita propria e la vita familiare e sociale oppure cambiare canale con quest'audio mp3 dicesse facilissimo nell'uso ripeto ancora una volta alla prova di un nonno le istruzioni alla prova di un idiota la prova di un pigro rinunciare sola ad una colazione al giorno per soli 30 giorni scaricando di quest'audio dicesse dell'associazione i prologi associati los angeles baby rils a cui ho ceduto tutti i miei diritti non è nulla rispetto ai benefici che puoi ben immaginare trattasi solo di parole 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 suggestioni dicesse create ad arte ad hoc pulite trasparenti naturali comprensibili che non hanno nessun effetto collaterale tarate su migliaia di ragazzi in quasi un secolo di un antico sapere che provengono direttamente da los angeles baby rils a due grandi artiste l'ipnosi vera professionale con la di maiuscola e professore dottore migliel angel garai la dottoressa rina brunini i miei maestri i miei mentori i miei associati i miei amici per l'eternità io ci ho messo un 30 per cento 40 per cento circa perché l'iprodizzo h24 dal 2008 ad oggi anche adesso sono iprodizzato non lo dico per banteria ma per ispirarti perché il metodo dicesse non ti ruba tempo non ti stressa non ti impegna non ti fa mettere gli auricolari non ti fa scendere montagna né vedere luci solo a te la scelta ok amico mia amica mia fammi tutte le domande del caso visita il mio sito internet www.iprolegi associati puntocom la mia fanpage su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni di cesto il dottore claudio saracino e faccia condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli puoi ti può cambiare la vita radicalmente della sera alla mattina ci sono tantissimi casi altri hanno messo più tempo ma la musica non cambia anche senza fare sessione online di ipnosi di cesto che peraltro sono sospesa al momento per problemi di tempo di impegni e vi seguimi gentilmente anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni di cesto del dottor claudio saracino un bacio un abbraccio amico a mia amica mia e alla prossima dal dottor claudio saracino alla tua ciao